Nono giorno di proteste antigovernative in Bulgaria, il premier Orescharsky aveva nominato il 32enne parlamentare Petsky a capo dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale. La decisione ha scatenato l'indignazione della popolazione perché Petsky, figlio della proprietaria di un grosso gruppo mediatico bulgaro, è in politica dall'età di 21 anni ed è accusato di corruzione.